Trump, Hueco e l'apocalisse americana. Oggi parliamo di Stati Uniti, di Trump, dell'attualità, come ci capita spesso all'IMES e nell'analisi geopolitica, ma collegata a un evento storico importante, cioè ai 30 anni di Hueco, un avvenimento molto importante nella storia recente americana. Benvenuti a Mappamundi e benvenuto a Federico Petroni. Ciao Federico. Tutti. Allora Federico, il tema di oggi è appunto, come ci capita spesso, colleghiamo l'attualità con il passato e io però partirei subito dall'attualità, perché Trump ha iniziato la sua campagna elettorale, di cui ovviamente parleremo, in un luogo particolare, un luogo altamente simbolico, a Hueco, perché? Trump ha dato inizio alla campagna elettorale a Hueco, città del Texas, formalmente perché è centrale nello Stato più importante, più popoloso, che fa da base ai repubblicani. Tuttavia, la città di Hueco presenta un simbolismo che non sfugge soprattutto alla sua base dell'elettorale più estremista. Hueco, come sapete, probabilmente è stata la sede di una delle più grandi tragedie della storia recente d'America, un assedio durato 51 giorni alla sede di una setta religiosa millenarista da parte dello Stato federale terminata in tragedia. Quell'evento è diventato un simbolo nella cultura estremista delle milizie che hanno aiutato Trump, hanno partecipato all'assalto al congresso del 6 gennaio 2021 e costituiscono un'importante base del suo movimento. E quindi parleremo dell'avvenimento, dell'anniversario e soprattutto di come è stato anche rivisitato, come viene ricordato oggi, quello che è diventato poi nel tempo. Però restiamo un attimo ancora sull'attualità e vi vorrei mostrare appunto un estratto del discorso di Trump. E ho preso molta fredda per questo, ma solo lo dico in modo giusto per quelli che hanno stato scoperto e scoperto, di cui ci sono molti persone che hanno stato scoperto e scoperto. Io sono il vostro retribuzione, noi ci prendiamo. Allora, io sono il vostro guerriero, ha detto cose interessanti in questo discorso che ci dirai Federico, però insomma un Trump che si candida come guerriero, cioè come personaggio divisivo nell'America di oggi e quindi torniamo a parlare di quella tempesta americana, di quella crisi interna americana di cui Trump ormai è un simbolo. Però andiamo con calma. Che cosa ha detto in questo discorso? Ha detto io sono la vostra vendetta, oltre a io sono il vostro guerriero. E poi ha detto subito dopo un'altra cosa molto interessante, ha detto o ci arrendiamo alle forze demoniache che vogliono distruggere, che stanno abolendo il nostro paese, oppure le sconfiggeremo in una vittoria valanga nelle elezioni del novembre 2024. O lo Stato profondo distrugge l'America o noi distruggiamo lo Stato profondo. Ora, queste sono parole a cui Trump ci ha abituato, non sono completamente nuove, però assumono un significato diverso perché vengono pronunciate proprio a Waco. dire queste parole il giorno in cui le ha dette Trump, nel luogo in cui le ha dette Trump, assumono un significato diverso perché la campagna di Trump ha scelto di cominciare durante il trentesimo anniversario di questi 51 giorni di assedio che poi finiscono in tragedia. E lo sceglie di fare appunto in questa cittadina. La sua campagna si è difesa dicendo ma noi non volevamo fare un'allusione effettivamente al rogo di Waco. Volevamo cominciare una cittadina centrale del Texas che è raggiungibile più o meno da tutti perché si trova quasi equidistante dalle principali città dello Stato della Stella Solitaria. Tuttavia, non è ovviamente questa, non ci soddisfa questa spiegazione perché Trump con queste parole violente fa riferimento anche al culto che è uscito dai trent'anni dopo Waco e fa riferimento a un evento che è entrato nella storia d'America come il simbolo di come lo Stato, lo Stato profondo in particolare, è uno Stato tirannico che viola la libertà dei cittadini, esagera, oltrepassa i propri limiti e non si fa problema a usare la violenza anche in modo così catastrofico contro la propria cittadinanza. È proprio a questa narrazione che attinge Trump e con un anche diretto incitamento al ricorso alla violenza. Trump ha ricordato il 6 gennaio, il giorno dell'assalto al congresso, come un giorno bellissimo, lo ha definito. Qui abbiamo appunto, l'abbiamo sempre detto, sono due mondi, due visioni del mondo contrapposte. Per esempio, quello che è sembrato a noi anche un assalto pittoresco con personaggi pittoreschi nel congresso, in realtà anche quelle stesse persone, anche come è successo con Waco, di cui appunto parleremo, però stanno diventando dei simboli. Adesso vedremo tra poco un video che le persone che ora sono in carcere, che hanno partecipato a quella manifestazione, che hanno partecipato agli aspetti più violenti, che quindi sono ora in prigione, vedono se stessi come dei patrioti. La loro visione è quella, l'immagine che noi abbiamo anche in tanti film americani, del patriota che lotta contro il potere, che lotta contro il tiranno, che in questo caso è il governo federale degli Stati Uniti. Allora, vediamo questo video. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled ever yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Allora, questo è un video, a più lungo abbiamo mostrato solo un estratto, che Federico tu mi hai girato, è un video che è girato molto sui social, che infatti è un video quindi per l'esterno, quindi abbiamo questi prigionieri, questi condannati per le violenze, che comunicano all'esterno e si presentano come gli eroi, i patrioti, che poi è anche un'immagine ricorrente nella storia americana. Quindi oggi hanno un ruolo politico? Sì, hanno un ruolo politico, sono usati da Trump come l'emblema del carattere patriottico e non insurrezionista del suo governo. E uso la parola governo in maniera conscia, non è un errore. Trump si ritiene illegittimo presidente, non ha riconosciuto la sconfitta elettorale, un'elezione, quella del 2020, che ritiene falsata, lo ha ribadito anche nel recente incontro con la CNN, intervistato in prime time dalla CNN, e usa queste persone per dire che loro sono ingiustamente perseguitate dal potere politico perché hanno fatto una manifestazione politica il 6 gennaio 2021, assolutamente legittima, esattamente come loro, anche io sono perseguitato dallo Stato profondo attraverso le incriminazioni e le inchieste giudiziarie che sono svolte nei miei confronti. Trump ha mostrato questo video che come giustamente hai ricordato tu, è stato girato dentro un carcere, quindi in teoria non era consentito svolgere questo tipo di attività, quindi evidentemente ci sono anche degli appoggi negli strati più bassi degli apparati quantomeno carcerari e sicuritari d'America, sappiamo, piccolo inciso, che le forze di sicurezza, anche le FBI, sono pesantemente infiltrati dall'estremismo nazionalista, chiusa questa parentesi per dire come Trump ha mostrato questo video durante la manifestazione di Waco e ha suonato l'inno, l'inno che come abbiamo sentito è piuttosto stonato, è stato cantato in maniera piuttosto stonata dagli ospiti del carcere, diciamo così, tra i quali appunto si ritrovano almeno 5 o 6 persone che hanno effettivamente partecipato a questo assalto. Oggi ci sono circa 1000 persone, poco più di 900 persone formalmente in stato d'accusa per quell'assalto, di questi circa 130 sono veterani militari oppure membri in servizio delle forze armate, sono 5 quelli effettivamente in servizio. Quindi vediamo che esiste anche un appoggio all'interno degli apparati o comunque all'interno di strutture che hanno una cultura, una preparazione militare che Trump non ufficialmente usa come la propria base, la propria milizia, la propria guardia presidenziale, non lo usa ufficialmente, però nei fatti sì, perché queste persone appunto hanno partecipato alle manifestazioni di Trump, hanno svolto anche un ruolo attivo, penso alla tragica manifestazione di Charlotteville in cui sono morte anche alcune persone per scontri legati alla razza e dunque vediamo che c'è questa continua, continuo dialogo fra Trump e gli elementi più violenti, più estremisti. La cosa che li accomuna, come dicevi tu, è il fatto di ritenersi legittimi, cioè queste persone non si autorappresentano come ribelli, si rappresentano come il legittimo rappresentante del popolo statunitense che è stato tradito dalle istituzioni tiranniche del governo degli Stati Uniti e questa è una cosa molto importante che li differenzia da altri movimenti estremisti europei come possono essere anarchici, fascisti o quant'altro, che non si rappresentano come il legittimo potere, invece queste persone si ritengono tali, si ritengono di combattere appunto contro un governo estremamente violento che sin da una tragedia di 30 anni fa, quella di Hueco, ha mostrato tutta la sua natura più violenta. E infatti hanno un loro immaginario, una loro storia, in parte rivisitata, però in parte anche che si fonda su elementi concreti e quindi andiamo a parlare di Hueco, 30 anni fa esattamente, nella vicenda vorrei mostrare subito l'immagine dell'incendio, del terribile incendio con cui si concluse quella vicenda. Allora, l'hai ricordato, qui c'è una setta in sostanza che vive, come capita poi spesso negli Stati Uniti per conto proprio, addirittura proprio un movimento religioso a parte, però armata a fine denti, che insomma è uno Stato nello Stato di fatto. C'è una prima operazione condotta anche molto male, direi, dall'autorità federale americana che appunto in base a una denuncia interviene per appunto in base a una serie di accuse che poi vedremo di cose che si svolgono all'interno di questa setta e vengono accolti a colpi non solo di pistola ma di fucili anche di armi pesanti, addirittura un fucile calibro 50. di questa vicenda voglio ricordare appunto la miniserie molto bella che voglio citare perché a cui abbiamo anche rubato in parte il titolo appunto Weco l'apocalisse americana. Allora intanto parleremo poi di come appunto viene ricordato ma parliamo un attimo della vicenda Federico, della vicenda in se stessa cioè diventa un evento mediatico diventa sono 50 giorni di assedio io per esempio mi ricordo all'epoca ero all'università fu presentata in occidente come una setta estremista religiosa con un fatto appunto molto strano per la nostra ottica e la nostra vicenda però per esempio nelle croniche di quel giorno non c'era per nulla l'aspetto della ribellione o del contrasto col governo centrale ecco quindi fu proprio come dire travisata completamente la vicenda in Europa allora racconticela tu che cosa successe successe che in questo complesso il Mount Carmel Center nella periferia di Waco si era insediata questa chiesa ventista del settimo giorno la branca dei davidiani il ramo dei davidiani questa è una piccola setta religiosa appunto di millenaristi dunque ritengono che si stia avvicinando il secondo avvento di Cristo ritengono che l'apocalisse si avvicina e che soltanto coloro che seguono il loro credo verranno salvati tuttavia questa redenzione arriverà attraverso una fase acutissima di violenze e di scontro con sostanzialmente l'anticristo questa setta viene guidata è guidata da David Koresh che è un giovane che ha preso il controllo di questa di questa di questa setta religiosa ne vediamo anche l'immagine ne vediamo anche la foto esatto il suo vero nome è Vernon Howell ma si fa cambiare il nome in David Koresh perché unisce il re Davide quindi centrale nella nella religione di Israele con l'imperatore di Persia lo Shah di Persia Ciro il cui nome viene tradotto nella Bibbia come Koresh e Ciro è lo Shah di Persia che libera gli ebrei dalla cattività persiana dunque unisce questi due nomi per rappresentarsi sostanzialmente come il secondo avvento di Cristo prea questa setta assolutamente centrata sul culto della propria personalità era un soggetto con diverse diversi problemi psichiatrici ma con un grande carisma succede un po' di tutto qui dentro oltre ad armarsi fino ai denti come hai ricordato Koresh scioglie i matrimoni delle persone di lui seguaci prende come moglie tutte le donne sostanzialmente della della comunità tra cui anche delle minorenni insomma un personaggio relativamente riprovevole a un certo punto questa la voce di questa setta armata fino ai denti con anche armi militari arriva al Bureau Alcohol Tobacco and Firearms and Explosives che è l'agenzia degli Stati Uniti che si occupa del contrabbando interno di queste sostanze tra cui appunto anche le armi agenzia federale non dello stato del Texas assolutamente agenzia federale nota con l'abbreviazione di ATF l'ATF a un certo punto fa una vuole fare una perquisizione all'americana dunque vanno armati fino ai denti anche loro in questo complesso la la notizia del raid arriva con un certo anticipo ai davidiani che aprono il fuoco contro gli agenti muoiono quattro agenti dell'ATF altre persone all'interno del complesso dei davidiani rimangono uccise a quel punto l'ATF chiama l'FBI anzi l'FBI si presenta c'è anche una certa rivalità tra le due agenzie e si presenta anche qui di nuovo all'americana armati pesantemente possiamo vedere anche una foto in cui che ritrae i 51 giorni dell'assedio qui vediamo un'altra foto appunto dell'immagine del luogo insomma e qui vediamo i federali si presentano anche con dei mezzi blindati e corazzati addirittura l'Abram viene impiegato che la versione diciamo più recente attuale adesso viene donata all'Ucraina dagli americani per la guerra insomma stiamo parlando del carro armato più pesante più potente dell'esercito americano sì dopo una serie di giorni ma insomma non vi sto a svelare niente avviene mi è mandato un ultimatum i bulldozer cominciano a fare piazza pulita del complesso per forzare l'ingresso effettivamente scoppia un incendio non si capisce non si capirà mai chi ha effettivamente la responsabilità di aver cominciato questo incendio se gli apocalittici davidiani o se invece gli impazienti agenti federali all'esterno il risultato è una tragedia che ricordarla continua a venirmi la pelle d'oca perché muoiono 80 persone circa tra cui anche una ventina di bambini qualcosa di veramente catastrofico la vicenda è ricca di aspetti come hai ricordato appunto c'erano donne e bambini in questa seragliati in questa setta ci sono tutta una serie di errori che svolge l'FBI c'è il contrasto tra i negoziatori e tra chi vuole invece l'intervento duro gli ricordo anche appunto hai ricordato le accuse di pedofilia all'interno della setta insomma tantissime vicende però noi analizzeremo l'aspetto che ci interessa allora intanto un attimo il contesto siamo nel 1993 Clinton è appena diventato presidente quindi siamo nel momento unipolare dell'America George W. Bush la guerra del Golfo del 91 nuovo ordine globale però viene sconfitto alle elezioni quindi inizia anche il momento iniziale della presidenza Clinton insomma ci sono anche aspetti di politica interna legati a quel momento ma tranasciamo tutto questo vi rimando poi appunto alla miniserie ma anche che è molto interessante e anche altre insomma ricostruzioni però quello che ci interessa viene vissuta fin dall'inizio Federico questa come un contrasto tra la libertà la libertà individuale di una setta contro lo Stato federale cioè viene vissuta da una parte della popolazione americana fin dall'inizio direi come un soppruso del governo centrale nei confronti di questa setta che poi magari ecco questo è un altro aspetto che magari appunto collabora nel senso nel cercare di diventare essa stessa un simbolo un mito poi diciamo per altre persone e la riprova di questo cioè la riprova che fin dal primo momento viene vissuta da una minoranza ovviamente di popolazione in questo senso ce lo dà il collegamento a un altro attentato molto importante che verrà un paio di anni dopo non a caso proprio nello stesso periodo quindi nell'anniversario di Ueco e qua voglio mostrare la foto vediamo l'attentato di Oklahoma City e vedete che attentato che vi ricordo è stato fino all'11 settembre l'attentato sul suolo americano che ha fatto più vittime più grave e qui vedete appunto il protagonista uno dei due attentatori che era presente nei giorni di Ueco cioè durante l'assedio in questi 50 lunghi giorni dove l'evento diventa anche un evento mediatico come capita spesso negli Stati Uniti tante persone si assemblano vicino fuori ovviamente dalla zona rossa insomma e assistono per giorni a questa vicenda e lui è lì è proprio lì matura quindi l'idea poi di vendicare Ueco e organizza questo attentato contro una palazzina una struttura federale a Oklahoma City e qua vedete appunto vedete intanto ecco mostriamo anche su questa carta molto semplice ma insomma vi dà l'idea dove è Ueco in Texas come appunto diceva Federico tra Dallas Austin in un luogo centrale e vedete Oklahoma City anche se è in un altro stato alla fine non tanto distante tra Texas e Oklahoma che sono confinanti quindi Federico al di là poi del come viene utilizzato oggi e come viene ricostruito e usato come simbolo oggi però già da allora c'era questo movimento c'era questa presenza c'era questo seme questo germe adesso non so quanto diffuso me lo direi tu in quegli anni negli anni 90 in America Ueco diventa un evento simbolo non tanto dell'America degli anni 90 che arriva fino a oggi diventa un simbolo della perversione del governo una perversione plurisecolare la storia dell'America è attraversata da movimenti minoritari però violenti e con un certo peso che sono convinti che sostanzialmente il governo sia sempre illegittimo e che sempre superi esageri nella propria proiezione della forza della propria autorità tutta la storia americana è attraversata da periodici momenti di ribellione contro l'autorità centrale che si fanno più forti nei momenti in cui l'America attraversa fasi di difficoltà non serve richiamare la ribellione del whisky del fine settecento repressa da George Washington per trovare degli antecedenti a tutto questo non serve richiamare il KKK il Ku Klux Klan non serve richiamare altri movimenti ottocenteschi antitasse ma fa tutto parte di una galassia tipicamente americana che non è una perversione dell'America è una sua caratteristica minoritaria ma strutturale questo questo odio nei confronti dell'autorità statale per proteggersi dalla quale occorre armarsi parte del motivo per cui gli americani si armano è che ritengono si ritengono sempre sottoponibili alla tirannia del potere centrale ecco tutto questo era stato in qualche modo tenuto in gabbia dalla guerra fredda la forza centripeta di avere un nemico così potente e disciplinante come l'unione sovietica aveva in qualche modo tenuto a bada lo spirito più ribellista dell'America profonda la guerra fredda finisce e non è un caso che la paranoia dell'America comincia a tornare in superficie a farsi più popolare sono gli anni lo hai ricordato anche tu in cui Bush padre fa il discorso sul nuovo ordine mondiale in quel momento l'America paranoica chiamiamola così si aspettava che finita la guerra fredda si sarebbe smantellato in parte anche lo stato centrale non tutto ovviamente ma che quella pressione quella quella anche quella tutta quella spesa militare che veniva giustificata con la guerra fredda e quel gigantismo amministrativo giustificato della guerra fredda sarebbe stato smantellato e poi si propone Bush padre con questo discorso su creiamo un nuovo ordine mondiale centrato sulle Nazioni Unite e lì cominciano a diffondersi le teorie della cospirazione che sono diffuse ancora oggi secondo cui al governo degli Stati Uniti ci sarebbe una cabala di massoni satanisti pedofili che vuole sciogliere gli Stati Uniti dentro un'architettura transnazionale centrata sulle Nazioni Unite sostituendo per esempio la razza bianca con altre razze insomma questo è il momento in cui magari non tanto nascono però diventano veramente popolari queste teorie e poi succede il rogo di Weiko che fornisce a queste persone una prova che il governo sta passando all'azione che sta passando alla fase operativa del suo piano di smantellare l'America un piano che prevede togliere le armi agli americani e quindi spiegazione bellissima che hai spiegato anche un po' l'importanza delle armi nella concezione americana vi ricordo la bellissima puntata di Magomundi con le foto di Gabriele Calimberti proprio sulle armi in America oggi dove vedete queste foto con delle famiglie con un numero quasi finito di armi in loro possesso che appunto non sono solo un qualcosa di particolare caratteristico un'eccezione ma rappresentano proprio una certa idea di America idea di America che come spiegavi è insita proprio nell'idea anche la stessa l'importanza della Bibbia che tu accennavi per quanto riguarda la setta di Weiko l'importanza dell'Antico Testamento che è una delle differenze fondamentali con l'Europa soprattutto nel mondo cattolico dove avevano più importanza al Nuovo Testamento invece in America hanno l'importanza dell'Antico Testamento qui vedete in questa carta appunto le milizie mainstream disegnata qualche anno fa da Laura Canali per dirci come al di là diciamo dei singoli casi sia un fenomeno piuttosto diffuso anche geograficamente negli Stati Uniti Federico e molte di queste milizie sono attive ancora oggi sì non solo sono attive ma usano anche Weiko come parte del loro mito fondativo vedete nella carta sulla sinistra nella leggenda viene riportata la milizia degli Oath Keepers cioè di coloro che mantengono il giuramento l'impegno fatto nei confronti dell'America anche qui sono dei patrioti si sentono patrioti bene il leader e fondatore degli Oath Keepers si chiama Stuart Rhodes è attualmente in carcere per il suo coinvolgimento nell'assalto al 6 gennaio del 6 gennaio al congresso con l'accusa di una cospirazione contro contro lo Stato bene lo vediamo qui un bel tipetto inquadrato in foto questo signore considera Weiko come un massacro esistenziale che cosa vuol dire definito esattamente con queste due parole quella tragedia lo considero un'epifemia un momento in cui ha capito che lo Stato si stava appunto armando nei confronti dei liberi cittadini li voleva disarmare li voleva soppiantare con appunto un'enorme violenza per imporre una tirannia e attraverso questa questa prova lampante per la sua mentalità paranoica recluta tra l'altro recluta ex militari recluta ex poliziotti eccetera eccetera un altro e non è un caso isolato quello di Stuart Rhodes un altro fondatore di una milizia abbastanza importante che è quella dei three percenters ossia il 3% dei patrioti americani che secondo la loro mitologia avrebbero combattuto durante la guerra di indipendenza dall'impero britannico solamente un 3% degli americani prese le armi dunque per questo noi siamo titolati eredi di questo 3% a essere in pochi a imbracciare le armi bene questo signore Mike Vanderburg considera Wake come il momento in cui aveva capito di non poter contare più su nessuno che era necessario appunto armarsi e passare alla fase operativa dopo una prima fase dei primi anni 90 in cui le milizie diventano molto popolari si assiste a un declino del fenomeno delle milizie che però ritorna molto popolare con la presidenza Obama che scatena ulteriori teorie della della cospirazione eccetera legate alla sua nascita ovviamente c'è la questione del colore della pelle insomma poi c'è quel movimento del tea party che si collega anche a quello che dicevi prima tu a questo filone sempre presente nella storia americana e a corroborare quello che dicevi su oggi come viene vissuta Weco ecco vedete anche questa foto c'è la maglietta addirittura diventa un fenomeno di marketing Weco e questa è un'altra caristica poi americana molto programmatica che ogni cosa poi diventa anche un affare un modo per far soldi vendere magliette eccetera questo è anche un aspetto molto interessante degli Stati Uniti dove anche in ambienti dove non ti aspetti poi se vuoi ti racconterò qualche vicenda adesivi felpe t-shirt come abbiamo visto oggi ci sono meme video su tiktok addirittura esiste una vera e propria cultura della strage di Weco ci sono gruppi musicali che sono stati fondati come i Weco Brothers oppure dei rapper molto famosi come Eminem come NAS o Pitbull hanno dedicato delle strofe alla strage di Weco effettivamente non è qualcosa che è solo parte della cultura delle milizie diventa molto parte della cultura mainstream anche americana tant'è vero che a testimonianza di come questi di questi di questi filoni narrativi sopravvivono lo abbiamo già ricordato in una puntata con te Alfonso ma vale la pena ricordarlo anche il ragazzo protagonista dei discord leaks dei documenti trafugati al pentagono la viere Jack Teixeira che è un 21enne quindi è nato abbondantemente dopo la strage di Weco considera comunque Weco un passaggio fondamentale della sua formazione e della formazione della sua idea del governo quindi vedete come questa storia che presenta anche aspetti non neghiamolo morbosi e anche questo probabilmente garantisce la sopravvivenza di questa cultura fa da sfondo a questo evento che fa parte nel bene o nel male della mentalità americana contemporanea e a questo proposito voglio mostrare l'ultima immagine appunto la lapide che appunto questa foto che gira anche qui sui social ed è uno degli aspetti degli elementi utilizzati oggi appunto per ricordare l'evento e per farne diventare una questione di attualità e in conclusione Federico vorrei tornare appunto questa lapide è importante se la possiamo far rivedere perché è al centro di Mount Carmel che oggi è un vero e proprio una vera e propria meta di pellegrinaggio dove le persone vanno a rendere omaggio a questi martiri per la libertà siamo arrivati a questi livelli ma la lapide è stata donata proprio da una milizia lo vedete in fondo la North East Texas Regional Militia of Texarkana Texas è una milizia che oggi è sciolta i suoi membri poi sono altrove però c'è un diretto collegamento tra Waco e le milizie che arriva anche fino a oggi e quindi insomma questi sono un po' i paradossi quella vicenda che fu presentata come una vicenda di una setta ribelle di pedofili eccetera diventa addirittura un mito fondante di una corrente politica importante americana che oggi in conclusione tornerei un attimo all'attualità Federico che oggi viene appunto cavalcata utilizzata poi non so quanto ci creda lui stesso però insomma sicuramente viene utilizzata da Trump e questa campagna elettorale Federico chiuderei qui quindi siamo per te siamo arrivati a toni da guerra civile e soprattutto c'è questo ragionamento l'abbiamo accennato in un'altra trasmissione da parte democratica che forse convenga avere come avversario Trump sperando che sia appunto troppo divisivo e troppo estremista per consentire quindi una nuova vittoria democratica non pensi che possa essere un gioco pericoloso cioè a che soglia siamo arrivati secondo te di pericolosità di questo scontro interno dell'America non una soglia da guerra civile lo dico subito nel senso che la grande maggioranza della popolazione americana è vero soffre ma è lontana da queste narrazioni così violente semmai il problema è che è troppo disinteressata sicuramente ci sono delle frange estremiste molto violente che sono molto pericolose e che possono dare luogo a atti di terrorismo questo è fuori di dubbio non penso che siamo ancora a un livello da guerra civile ancora però non è detto cosa ci riserverà il futuro sulla tua seconda domanda conviene ai democratici avere Trump come sfidante questo è quello che pensano loro dopo questo incontro con la CNN recente in cui Trump ha preso per i fondelli la presentatrice una giovane giornalista un astro nascente della televisione americana in cui era circondato da un pubblico simpatetico che ha riso alle sue battute riso alle sue prese in giro della presentatrice insomma la tv the establishment e i media si sono resi conto bonta loro finalmente che Trump può ancora essere eletto che ha un vasto sostegno nell'elettorato americano tuttavia i democratici hanno reagito in maniera molto tranquilla dicendo beh perfetto ci ha fornito degli assist clamorosi per la nostra campagna ci ha risparmiato un lavoro di mettere assieme dichiarazioni di Trump disparate che ci avremmo messo due mesi no in un'ora di televisione ci ha fornito tutte le linee per noi per costruire la nostra campagna per esempio si è dichiarato contro contro l'aborto si è dichiarato appunto a favore del ribaltare il risultato del 2020 cioè non ha riconosciuto la legittimità della sconfitta tutte cose su cui i democratici pensano di fare campagna per dire volete ancora quattro anni di questa roba qua non è detto che gli americani questa volta li seguano si rischia di entrare in una modalità in una mentalità per i democratici troppo simile a quella di Hillary Clinton contro Trump nel 2016 in cui la campagna di Clinton era contenta di avere una persona impresentabile come Trump ecco non vorrei dal loro punto di vista che stessero commettendo questo errore Trump sicuramente ha fatto disamorare una parte dei repubblicani sicuramente se continua a essere ossessionato dal 2020 e se non dice agli americani soprattutto a quelli di nuova generazione come pensa di risolvere i problemi economici che la nazione con cui la nazione si confronta sicuramente si toglie una parte dell'elettorato ecco ma considerarlo la bestia non so quanto sia utile per un establishment che è considerato e visto da una buona fetta della popolazione come veramente troppo distante dai problemi dell'America quotidiana problemi dell'America quotidiana di cui parliamo anche nell'ultimo volume di Limes il blef globale che trovate in edicola e libreria online e dove si affrontano appunto molti di questi argomenti allora Federico grazie davvero grazie per il tempo che ci hai dedicato per questa bella puntata tra passato e presente e alla prossima grazie a te e ricordiamo magari in ultima due articoli dell'artivio di Limes uno di Paolo Naso proprio dedicato all'assedio di Waco dal numero del 2016 sul Texas e poi l'articolo sulle milizie di Lorenzo Di Muro del primo numero del 2021 per chi vuole approfondire giusto perché gli abbonati digitali possono anche vedere leggere gli arretrati e già che ci siamo ricordiamo anche le fiamme americane la tua rubrica sul sito ricordo che appunto dove affronti settimanalmente proprio i temi che riguardano questa crisi questa tempesta americana di cui abbiamo parlato oggi allora Federico grazie ancora e alla prossima a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti